Ieri, presso la Basilica Santuario della Madonna del Tindari, si è tenuta l'Assemblea Ecclesiale di Ocesana. L'Assemblea si è svolta seguendo le norme anti-Covid-19 e per questo sono state presenti circa 200 persone, con la partecipazione di un numero ridotto di fedeli. I sacerdoti, un operatore pastorale di ciascuna delle 84 parrocchie della Diocesi di Patti, due suore di ciascuna congregazione religiosa, un rappresentante di ogni gruppo, movimento e associazione. Durante questo importantissimo evento, il Vescovo Monsignor Guglielmo Giombanco ha consegnato alle comunità parrocchiali, ai gruppi, movimenti e alle associazioni, la nuova lettera pastorale, la perla di grande valore. Nella lettera pastorale, dice il Vescovo, non ho dato indicazioni, perché capisco che ci sono incertezze e tutto può cambiare da un momento all'altro. L'obiettivo primario deve essere recuperare i passi perduti, impegnandoci a ripartire insieme come comunità, perché non possiamo rimanere passivi. Monsignor Giombanco, per il nuovo anno pastorale, chiede tre cose. Riprendere le relazioni con le famiglie, perché si è un po' perso il senso di appartenenza alla comunità. Bisognerà portare la chiesa nelle famiglie, perché diventino chiese domestiche. Ogni cambiamento nelle famiglie ha una ricaduta sulla comunità ecclesiale. Puoi ripartire con la catechesi ai ragazzi, perché senza ragazzi la comunità comincia ad agonizzare e non avrà futuro. Anche in questo caso bisognerà coinvolgere le famiglie, perché la formazione cristiana rientra nel loro impegno educativo. Dobbiamo rifuggire da una chiesa museo. Infine, continuare con la solidarietà e con i gesti di amore. Ci stiamo attrezzando, afferma il Vescovo, per il sostegno economico, per le attività, per il reperimento di locali, perché la chiesa è una famiglia e non può escludere chi ha bisogno, perché altrimenti cessa di essere madre. Da noi vengono persone mai viste prima. Mi scrivono titolari di ditte e di imprese in grossissime difficoltà. La parabola della perla di grande valore ci invita a cercare ciò che è essenziale nella nostra vita. Come chiesa diocesana e del resto, come tutte le altre realtà, proveniamo da un'esperienza difficile al motivo della pandemia, un tempo drammatico di sofferenze. Nello stesso tempo, però, questo tempo è stata un'occasione per cercare ciò che è veramente essenziale, ciò che serve alla nostra vita come parrocchie, ma anche personalmente, per vivere in pienezza la nostra umanità. Ho scelto come immagine la perla di grande valore, perché questo tempo non ci chiede di compiere attività, ma di fermarci e riflettere.